Incidente mortale lungo la statale 16 tra le marine di Petacciato e Montenero di Bisaccia. La vittima è Christian Smisek, 28 anni di Termoli. Da una prima ricostruzione era alla guida di una Fiat Punto che viaggiava verso la città quando, per cause da accertare, si è schiantato contro una lanciaderta condotta da un altro giovane di 28 anni di origini albanesi e residente a Campomarino, che procedeva in direzione opposta. Il terribile impatto non gli ha lasciato scampo. Il corpo senza vita è stato estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di Termoli che hanno operato tra le lamiere accartocciate delle due auto. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Vasto per accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi. Il traffico sulla statale è rimasto bloccato per consentire i soccorsi in un'ora di punta per i rienti del fine settimana e deviato su collegamenti alternativi. Dei rilievi si occupa la polizia stradale di Campobasso, sul posto i carabinieri e il personale dell'ANAS.